Allora... Allora, voglio ricordare a tutti voi che questa si chiama Telemarket, è una grande azienda con tantissimi cazzi, ma talmente tanti che non ve lo immaginate nemmeno quanti sono Veramente divertente Mi dai un cazzo e tre minuti, grazie Fan fan culo Oh no Oggi scopavo con un mio carissimo amico e mi diceva Alessandro sai hai un cazzo incredibile Invece voi siete delle merde C'è rivisibile C'è è come se te ti metti a scopare con il frigorifero o con l'aspirapolvere C'è... C'è... A che... Si possa sembra... Possa sembrare... Che... Che... Diciamo che la tua aspirapolvere ti dica una cosa che ti fa arrabbiare Mi ha fatto incazzare E' un aspirapolvere E' una macchina E' un aspiramacchina Esattamente come lo è questa telecamerina del cazzo Se... Se una mamma lo è s... Se una macchina ti fa arrabbiare è un problema perché non ti puoi fotere la macchina Potrei... Eh... Di cacchina Potrei sfogarmi con il cazzo Ma... Perché? Che male ha fatto no? Beh... Questo non è un olio Ma... Una f***a nera Ok Allora... Guarda qua Se voi adesso guardate Enene Enene Enerci Wow Ah... Isnerci Wow